Siamo con Francesco D'Aiala, inviato TG RAI, già insomma anche in forza alla RAI televisione e non solo radio. Quindi un'esperienza importante, è lunga, 30 anni e più, vero Francesco? Sì, sono 30 anni l'anno scorso, dunque è un'esperienza che se ne può parlare. C'era la guerra dei 30 anni che ha cambiato l'Europa, io ho cercato di cambiare un pochino il mio mestiere e le regole. Il mestiere sono passato anche dalla televisione alla radio, per continuare a cambiare anche il linguaggio che uno usa. E' cambiato il linguaggio, è cambiato il tempo, è cambiata la società da raccontare ed è cambiato anche il mondo dell'informazione in qualche maniera. Sì, ma sai, tutto cambia come cambia la società. La società, voglio dire, noi abbiamo studiato a scuola, almeno quelli della mia generazione, che esisteva un primo mondo, un secondo mondo che era il mondo comunista e un terzo mondo emergente. Tutto questo non esiste più dal 1989 e siamo poi diventati grandi in un mondo o altro. Ovviamente le parole, le frasi e anche la cultura per raccontare queste cose doveva cambiare completamente. Io ho assistito come inviato alla dissoluzione del mondo dell'Est, la guerra di Jugoslavia e altre vicende luttuose, che però per un inviato assistere a storia in diretta è la cosa fondamentale. Ma questo mi ha aiutato a capire in che mondo potevamo finire. In tutti gli scenari che anche oggi si raccontano, uno pensa all'ISIS, pensa a tante realtà e questioni, in realtà vedi che se non avessi avuto la preparazione di fondo, in fondo non la riesci proprio a raccontare, perché nessuno di noi avrebbe pensato dieci anni fa che il mondo in questo momento era questo. Dunque è difficile fare previsioni. Quindi non posso chiederti in che mondo siamo finiti, il mondo è in continua evoluzione? No, no, puoi chiedervo perché è il mio mestiere in fondo raccontarlo, intanto capirlo, e qui voglio dire, i miei amici direbbero cose orribili proprio perché sono amici, e intanto bisognerebbe capirlo il mondo dove uno sta, e poi cercare di raccontarlo il nostro è sempre un tentativo, la perfezione intanto non è di questo mondo, ma nel giornalismo tanto più, perché siccome stai parlando di qualche cosa che è il presente, dunque sono istanti, l'istante non può mai essere fermato o fotografato come una fotografia, un avvenimento va comunque a sempre delle conseguenze, e di conseguenza appunto puoi raccontare quell'attimo, quel momento, e fare delle ipotesi, degli scenari, ma non hai mai la certezza, sennò faremmo gli indovini e chissà come potremmo indirizzare il cambiamento della società, cosa che invece è l'informazione e indirizza l'opinione pubblica. Tu fai radio in questo momento, è anche la radio pubblica importante, radio 1, radio 2, radio 3, quindi un ampio ventaglio di proposte nella comunicazione radiofonica. Che cosa ti ha affascinato e che cosa c'è di diverso da quando raccontavi invece la guerra, da quando eri sul campo? Allora, quando ho raccontato la guerra quando ero sul campo, ho raccontato attraverso le immagini, dunque la televisione. La radio è stata una scelta a 50 anni di cambiare proprio mestiere, perché il modo di scrivere per la radio è un modo di scrivere evocativo, necessariamente perché non ci sono le immagini. Per cui diventa, per chi scrive, molto più impegnativo. E questo è molto interessante, perché diventa un ritornare al buon italiano, che spesso è in televisione, diciamolo proprio, latita. Ormai siamo sui modi di dire, sulle cose, lo sciocco. Io per esempio una frase, il giorno che trovo, chi ha inventato, ho trovato il corpo senza vita, giuro che lo lascio lì dove è. Senza vita? Senza vita, perché hai trovato il corpo, perché sennò hai trovato Francesco, Giovanni, ecco, questa è una delle cose, insomma, la radio questo te lo permette meno. Noi abbiamo detto lavori per il servizio pubblico, questa è una manifestazione pubblica, a cui, insomma, lo diciamo perché è il caso, insomma, abbiamo avuto veramente poca visibilità dalla televisione pubblica in questi giorni di Trame Festival. Che cosa e chi, e anche perché, si decide di seguire un evento piuttosto che in un altro? E perché in un territorio come il nostro, il rischio, dove una manifestazione di libri sulle mafie può essere e può determinare un cambiamento, non trova spazio nel servizio pubblico, secondo te? Allora, intanto per cominciare perché la scelta della notizia, cioè quello che una redazione, un caporedattore, un direttore sceglie e battezza come notizia, è assolutamente subordinata a quello che è il mondo della politica. In questi giorni in Italia ci sono queste grandi votazioni, e ovviamente il mondo politico è in fibrillazione. Il mondo giornalistico pubblico va molto più appresso a questo e all'uscita o non uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea rispetto a una cosa che dovrebbe essere una manifestazione come Trame che dovrebbe essere la precondizione seguirla, mentre invece piano piano si tende a dimenticare quello che è il vero ruolo del servizio pubblico, che è alla fine comunque informare su tutto. E su questo devo dire, dobbiamo fare tutti noi del servizio pubblico una mea colpa, perché non c'è poi questa... non c'è quanto ci dovrebbe essere, non è vero che non c'è informazione, informazione gira in Italia, grazie a Dio siamo ancora una democrazia... Sì, con tutti i difetti e le incertezze del sistema Italia, però in realtà ancora le notizie girano. Quello che bisogna fare è elevare a sistema una serie di comunicazioni, mentre è assolutamente quasi casuale, random, cioè se c'è un buco in pagina allora si mette questo. Beh, non si deve arrivare nel caso di una manifestazione come Trame, che è al sesto anno, a essere presenti in maniera sporadica. Parlavi prima del mondo in fibrillazione, qui c'è quella bella domanda di com'era il clima a Roma oggi, quando hai preso l'aereo per venire qui. Era molto bello e molto agitato, cioè Roma sembrava Roma a Ferragosto, nel senso che non girava nessuno. Io stamattina ho preso l'aereo, prima di prendere l'aereo sono andato a votare, e sembrava di girare una città fantasma. L'affluenza è bassissima? L'affluenza non lo so, io sono andato a votare con le galline, però, insomma, ecco, le notizie che arrivano sono che l'affluenza è bassa, però a un secondo turno è sempre più bassa che al primo turno. Vediamo come andrà a finire, questo mi incuriosisce molto, giornalisticamente parlando. Ringraziamo Francesco Tagliala che è stato con noi, fra un po' sarà protagonista di un incontro insieme a Gioacchino Criaco, e benvenuto a Trame 6, e buona continuazione.